Questa è la fulgurata di accettare, non c'è più nessuno. Mi piace tirare i pubblici, possiamo dare nulla. Vuoi sparare una minchia a starmi qua. Grazie ma che armaccio ho mandato. La polizia è con noi ragazzi. Arrivo, ricevuto 2-1. Non è K-1. Perfetto, perfetto, perfetto. Ok, quelli sono con noi, meno male non l'ho fiappato. Ma dove sta camminando? Dura a morire 4-1. C'è qui nessuno di sopra. Ok, qua si muorirà nei giro di 2 secondi. Quindi... Ci sono messi. C'è questo problema. Allora... Che va a fare l'aspetti? Gideon, il furgone è bloccato al centro del ponte. Ci siamo quasi. Oh! Ma co... Ma cosa? Ma cosa? Cosa? Tu... Che si è chiamato dei cifili siamo fritti. Perché ci dicono che, appunto, non bisogna ammazzare i cifili. Magari anche il terriburale di sotto. 157 metri alla meta, complimenti. Conta piazza pulita. Ok. Perfetto. Ecco, si esplode noi. Mi possono uccidere tutti, ma non mi vede nessuno. Quella cosa bella è quella, ragazzi. Ok, beh, ho capito che un colpo non basta per uccidere lì. Una decina ci ne vogliono, soprattutto quelli che sembrano una mosca, quelli con il casco rosso. Io sono più talmente immerso negli avversari e sto piando meno colpi dei miei. Che fisico secondo me se guidano, ok. Raga che manca poco, veramente. Magari non voglio morire così. Sì. 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 Mi sembra che è molto meglio. ecco efe arriviamo in supporto no secondo me scusi ok scendi subito! a terra! a terra! apriamo l'autista abbiamo punti da sviluppare mi sono un po' più corta questa qua vi ringrazio lasciate un like e iscrivetevi come al solito fate il tasto qua in basso sotto che per me è molto importante ragazzi seriamente vi ringrazio appunto ci vediamo alla missione 12 comunque ci vediamo anche per altre cose per altri episodi che avevano pubblicato gli altri giochi grazie mille ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti